Sono iniziati i lavori per gli argini sul fiume Pescara, sia sul lato sud che sul lato nord della nostra città. Sono lavori che metteranno in sicurezza il fiume Pescara per quel tratto, un tratto di un chilometro circa per sponda, e propedeutici alla costruzione, alla realizzazione del nuovo ponte, che in questi giorni è in gara. E' un'opera di 3 milioni e 6 che vedrà quindi la sicurezza del fiume, ma vedrà anche il rifacimento della pista ciclabile sul lato nord, dell'illuminazione e della riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni punti, tra i quali in primis l'incrocio tra Via Le Mainarde e Via Valle Rovetto. Sarà inserita anche una sirena che prevederà l'allarme in caso di fuoriuscita delle acque e che sul lato sud metterà subito, perché saranno realizzate a nuovo, due porte che chiuderanno mettendo tutto il resto della città della zona sud in caso di riempimento delle sponde di fuoriuscita delle acque in sicurezza tutta la città. Grazie. 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 Grazie.